INCONTRIAMO IL DIO BIFRONTE Riuscimmo a percorrere qualche centinaio di metri prima di perderci. Il tunnel non somigliava affatto a quello in cui eravamo caduti io e Annabeth. Adesso era rotondo come un condotto fognario, con le pareti di mattoni rossi punteggiate di oblò chiusi da grate di ferro. Per curiosità puntai la torcia oltre le sbarre, ma non riuscì a scorgere nulla. Si aprivano su delle tenebre infinite. Mi sembrò di sentire delle voci dall'altra parte, ma forse era soltanto il vento gelido. Annabeth fece del suo meglio per guidarci. Secondo lei, dovevamo passare rasenti alla parete di sinistra. Se teniamo una mano appoggiata a sinistra e continuiamo a seguire il muro, poi dovremmo riuscire a ritrovare la strada a ritroso. Ma non fece in tempo a dirlo che la parete di sinistra scomparve. Ci ritrovammo al centro di una sala circolare da cui dipartivano otto tunnel. Senza avere la minima idea di come ci fossimo arrivati. Da che parte siamo entrati? Chiese Grover, nervoso. Basta voltarsi, rispose Annabeth. Ognuno di noi si voltò verso un tunnel diverso. Era ridicolo. Nessuno era in grado di stabilire quale strada riconducesse al campo. I muri sinistri sono cattivi, disse Tyson. Adesso dove si va? Annabeth fece scorrere il raggio della torcia sopra gli archi d'ingresso di tutti e otto i tunnel. Per quanto ne capivo io, erano identici. Di là, rispose. Come lo sai? Chiesi. Ragionamento deduttivo. Cioè, stai tirando a indovinare? Muoviamoci e basta, tagliò Cordolei. Il tunnel che aveva scelto si restrinse in fretta. Le pareti divennero di cemento grigio. Il soffitto si abbassò così tanto che ben presto camminavamo con la schiena curva. Tyson fu costretto a procedere Carponi. Il respiro affannato di Grover era il rumore più forte che si percepisse. Non ce la faccio più, mi sbigliò. Non siamo ancora arrivati. Non saranno passati neanche cinque minuti, gli rispose Annabeth. No, è passato più tempo, insistette Grover. E poi perché Pan sarebbe qua giù? Questo è l'esatto opposto delle selve. Continuammo ad avanzare a fatica. Proprio quando ormai ero certo che saremmo finiti stritolati, il tunnel si aprì su un ambiente enorme. Illuminai le pareti con la torcia ed esclamai «Cavolo!». Tutta la stanza era rivestita di mosaici. Le immagini erano sporche e scolorite, ma riuscivo ancora a distinguere i colori. Rosso, blu, verde, oro. Il fregio dell'ingresso mostrava gli dèi dell'Olimpo a un banchetto. Riconobbi mio padre, Poseidone, con il suo tridente che offriva dell'uva a Dioniso per chi la trasformasse in vino. Zeus si divertiva con dei sateri, mentre Hermes svolazzava con i suoi sandali alati. Le immagini erano splendide, ma non erano molto accurate. Avevo visto gli dèi. Dioniso non era così bello. Il naso di Hermes non era tanto grosso. Al centro della stanza si innalzava una fontana a tre piani. Sembrava inaridita da un'eternità. Cos'è questo posto, borbottai? Sembra romano, concluse Annabeth. Questi mosaici avranno almeno duemila anni. Ma com'è possibile? Non me ne intendevo tanto di storia antica, ma ero piuttosto certo che l'impero romano non fosse mai arrivato dalle parti di Long Island. Il labirinto è un miscuglio di tante parti diverse, rispose Annabeth. Te l'ho detto, si espande in continuazione, aggiungendo nuovi pezzi. È l'unica opera architettonica che cresce da sola. Da come lo dici, sembra quasi che sia vivo. Un gemito riecheggiò nel tunnel che avevamo di fronte. Evitiamo di dirlo, piagnucolò Grover. Per favore, eh? E va bene, lo rassicurò Annabeth. Avanti. Nella galleria con i rumori brutti? Domandò Tyson. Anche lui sembrava nervoso. Sì, rispose Annabeth. L'architettura sta diventando più antica. È un buon segno. Il laboratorio di Daedalo dovrebbe trovarsi nella parte più vecchia del labirinto. Era una teoria sensata. Ma il labirinto cominciò subito a prendersi gioco di noi. Dopo un centinaio di metri, il tunnel tornò di cemento, con le tubature d'ottone alle pareti, i graffiti e una scritta fosforescente che diceva «Moz è il capo». «Ho il sospetto che non sia romano», commentai incoraggiante. Annabeth fece un respiro profondo e continuò ad avanzare decisa. Ogni pochi metri, le gallerie svoltavano e si diramavano in altre direzioni. Sotto i nostri piedi, il pavimento passava dal cemento al fango, dal fango ai mattoni e poi di nuovo al cemento. Senza alcuna logica. Capitammo perfino in una cantina, con tanto di scaffali di legno colmi di bottiglie polverose. Come se ci trovassimo nel seminterrato di qualcuno. Solo che non c'erano uscite verso l'alto. Solo altri tunnel da imboccare. Più avanti, ci imbattemmo in un soffitto fatto di tavole e si sentivano delle voci e dei passi, come se fossimo sotto un locale. Era rassicurante udire delle persone, ma tanto erano irraggiungibili. Eravamo bloccati lì sotto, senza via d'uscita. Poi trovammo il nostro primo scheletro. Indossava degli abiti bianchi, come una specie di uniforme, e aveva accanto una cassa piena di bottiglie. Un lattaio, dedusse Annabeth. Cosa? Feci io. Uno di quelli che una volta consegnavano il latte a domicilio. Sì, lo so cos'è un lattaio, ma... C'erano quando mamma era piccola, un milione di anni fa. Che ci fa qui? Alcuni ci capitano per sbaglio, rispose Annabeth. Altri di proposito, in esplorazione. Ma non tornano mai indietro. Tanto tempo fa, i cretesi mandavano perfino qui delle persone come sacrifici umani. Grover deglutì. È qui da un sacco di tempo. Indicò le bottiglie, che erano rivestite di polvere bianca. Le dita dello scheletro artigliavano la parete di mattoni, come se fosse morto mentre cercava di uscire. Sono solo ossa, osservò Tyson. Niente paura, ragazzo capra. Il lattaio è morto. Il lattaio non mi dà fastidio, replicò Grover. Ma la puzza di mostri sì. Non la senti? Tyson annui. Un sacco di mostri. Ma sottoterra è sempre così. Mostri, me l'attai morti. Oh, bene, piagnucolò Grover. E io che speravo di sbagliarmi. Dobbiamo addentrarci di più, suggerì Annabeth. Deve esserci una strada per il centro del labirinto. Ci condusse a destra, poi a sinistra. Quindi lungo un corridoio d'acciaio simile a un condotto dell'aria. Finché non sbucammo di nuovo, nella stanza con la fontana e i mosaici romani. Solo che stavolta non eravamo soli. La prima cosa che notai furono le due facce. Spuntavano entrambi i lati di un'unica testa e ci scrutavano da sopra le spalle. Perciò la testa era molto più larga del normale, come quella di un pesce martello. Guardandolo da davanti, vedi solo due orecchie sovrapposte e due basette identiche e speculari. Era vestito come un portiere di New York, una lunga giacca nera, scarpe di copale e un cilindro nero, che in qualche modo riusciva a restare in equilibrio sopra quella testa extra-large. «Ebbene, Annabeth!» esclamò la faccia sinistra. «Sbrigati!» «Non badi a lui!» replicò la faccia destra. «È un vero maleducato!» «Da questa parte, signorina!» Annabeth era rimasta a bocca aperta. «E... io non...» Tyson si accigliò. «Quell'uomo buffo ha due facce!» «L'uomo buffo ha anche due orecchie, sai?» lo rimbrottò la faccia sinistra. «Ora vieni avanti, signorinella!» «No, no!» protestò la faccia destra. «Da questa parte, signorina! Parli con me! La prego!» Il tizio bifronte studiò Annabeth come meglio poteva, con la coda degli occhi. Era impossibile guardarlo senza concentrarsi sull'una o sull'altra faccia. E a un tratto mi resi conto di cosa stesse chiedendo. Voleva che Annabeth scegliesse. Alle sue spalle vidi due uscite con delle porte di legno chiuse da grossi lucchetti di ferro. Non c'erano quando eravamo passati di lì prima. Il portiere bifronte aveva in mano una chiave d'argento che continuava a passarsi dalla mano destra alla sinistra. Mi chiesi se non si trattasse di una stanza del tutto diversa dalla precedente, ma il fregio con gli dèi era identico. Dietro di noi, l'ingresso da cui eravamo entrati scomparve, rimpiazzato da altri mosaici. Non potevamo più tornare da dove eravamo venuti. Le uscite sono chiuse, osservò Annabeth. Ma dai, rispose la faccia sinistra. Dove portano? chiese Annabeth. Una probabilmente porta dove desidera andare, rispose la faccia destra in toni incoraggiante. L'altra invece conduce a morte certa. Io... io so chi sei, esclamò Annabeth. Oh, sei sveglia. La schernì la faccia sinistra. Ma sai quale strada scegliere? Non ho mica tutto il giorno. Perché stai cercando di confondermi? chiese Annabeth. La faccia destra sorrise. Adesso è lei il capo, mia cara. Tutte le decisioni sono sulle sue spalle. È quello che voleva, no? Io... Noi ti conosciamo, Annabeth, continuò la faccia sinistra. Sappiamo contro che cosa lotti ogni giorno. Conosciamo le tue indecisioni. Dovrai compiere la tua scelta prima o poi. E la scelta... potrà ucciderti. Non sapevo di cosa stessero parlando. Ma non sembrava che si trattasse solo di porte. Annabeth impallidì. No, io non... Lasciatela in pace, sbottai. E poi si può sapere chi siete. Io sono il tuo migliore amico, rispose la faccia destra. Io sono il tuo peggiore nemico, rispose la faccia sinistra. Io sono Giano, risposero le due facce all'unisono. Il dio delle soglie, degli inizi, delle fini, delle scelte. Presto vedrò anche te, Perseus Jackson, sottolineò la faccia destra. Ma per ora è il turno di Annabeth. Rise scioccamente. Che spasso! Chiudi il becco, esclamò la faccia sinistra. Questa è una cosa seria. Una cattiva scelta può rovinarti la vita. Può uccidere te e tutti i tuoi amici. Ma non voglio farti pressione, Annabeth. Scegli. Con un brivido improvviso, ricordai le parole della profezia. L'ultima resistenza di un frutto della progenie di Atena. Non farlo, dissi. Temo che invece debba proprio, ribatté la faccia destra, tutta contenta. Annabeth si inumidì le labbra. Scelgò. Scelgò. Prima che potesse indicare una porta, la stanza fu inondata da una luce accecante. Giano si portò le mani alle fronti per coprirsi gli occhi. Quando la luce si spense, accanto alla fontana c'era una donna. Era alta e aggraziata, con i capelli lunghi color cioccolato, intrecciati con dei nastri d'oro. Indossava una semplice veste bianca, ma quando si mosse, il tessuto scintillò, come olio iridescente, sull'acqua. Giano, esordì, stai di nuovo combinando guai? No, mia signora, balbettò la faccia destra. Sì, esclamò la faccia sinistra. Chiudi il becco, sbottò la faccia destra. Come prego? Domandò la donna. Non dicevo a lei, mia signora, parlavo da solo. Capisco, fece la donna. Sai benissimo che la tua visita è prematura. L'ora della ragazza non è ancora giunta, perciò sono io a concedere a te una scelta. Lascia questi eroi a me, o ti trasformerò in una porta e ti farò abbattere. Che genere di porta? Chiese la faccia sinistra. Zitto, gridò la faccia destra. Perché le porte finestre sono belle, continuò la faccia sinistra. Tutta quella luce naturale. Chiudi il becco, urlò la faccia destra. Non dicevo a lei, mia signora, me ne andrò, naturalmente. Mi stavo solo divertendo un po'. Offrivo delle scelte, è il mio lavoro. Provocavi indecisione, vuoi dire, lo corresse la donna. Ora sparisci. La faccia sinistra borbottò. Qua sta feste. Quindi sollevò la chiave d'argento, la inseri nell'aria e scomparve. La donna si voltò verso di noi e la paura mi attanagliò il cuore. I suoi occhi brillavano di potenza. Lascia questi eroi a me. Non suonava bene. Per un secondo rimpiansi Giano e le sue scelte. Ma poi la donna sorrise. Dovete essere affamati, disse. Sedetevi a chiacchierare con me. Fece un gesto con la mano e la vecchia fontana romana tornò in funzione. Getti di acqua limpida zampillarono nell'aria, mentre poco lontano comparve un tavolo di marmo, carico di vassoi pieni di sandwich e bricchi di limonata. Lei chi... chi è? Chiesi. Sono Hera. La donna sorrise. La regina del cielo. Avevo visto Hera una volta al consiglio degli dèi, ma non le avevo prestato molta attenzione. All'epoca ero circondato da un bel po' di altri dèi che stavano discutendo su come uccidermi. Non ricordavo che avesse un aspetto così ordinario. Sull'Olimpo gli dèi sono alti sei metri, cosa che di certo non li fa sembrare molto normali. Ma adesso Hera somigliava a una mamma qualunque. Ci servì sandwich e versò la limonata. Grover tesoro, esclamò. Usa il tovagliolo, non mangiarlo. Sì signora, rispose lui. Tyson, ti trovo un po' sciupato. Un altro sandwich al burro di arachidi? Tyson soffocò un rutto. Sì signora gentile. Regina Hera, mormorò Annabeth. Non riesco a crederci. Cosa ci fa nel labirinto? Hera sorrise. Fece schioccare le dita e i capelli di Annabeth si pettinarono da soli. Lo sporco e il sudore svanirono dal suo viso. Sono venuta per te, naturalmente, rispose la dea. Io e Grover ci scambiamo un'occhiata nervosa. Di solito, quando gli dei vengono a cercarti, non è per la bontà dei loro cuori, ma perché vogliono qualcosa. Il che non mi impedì di ingozzarmi di sandwich al tacchino e formaggio, patatine e limonata. Non mi ero reso conto di quanto avessi fame. Tyson ingorgitava un sandwich al burro di arachidi dopo l'altro, mentre Grover adorava la limonata e sgranocchiava il bicchiere di polistirolo come un cono gelato. Non pensavo... Annabeth esitò. Beh, non pensavo che le piacessero gli eroi. Hera sorrise con indulgenza. Per quel piccolo dissapore con Ercole. Cielo, me ne hanno dette di tutti i colori solo per quell'unico bisticcio. Ma non ha cercato di ucciderlo un sacco di volte, replicò Annabeth. Hera liquidò la domanda con un gesto della mano. Ne è passata di acqua sotto i ponti, mia cara. E poi, era uno dei figli avuti dal mio adorato marito con un'altra donna. La mia pazienza era gli sgoccioli, lo ammetto. Ma da allora, io e Zeus frequentiamo un ottimo consulente matrimoniale. Abbiamo espresso i nostri sentimenti e siamo giunti a un accordo. Soprattutto dopo l'ultimo incidente. Si riferisci a Talia? Chiesi, rimpiangendo subito la domanda. Non appena pronunciai il nome della nostra amica, la mezzosangue figlia di Zeus, Hera mi puntò uno sguardo gelido addosso. Percy Jackson, non è vero? Uno dei... figli di Poseidone. Ebbi la sensazione che figli non fosse esattamente la definizione a cui stava pensando. Se ben ricordo, ho votato per risparmiarti la vita al solstizio d'inverno. Spero di non essermi sbagliata. Si rivolse di nuovo ad Annabeth con un sorriso solare. A ogni modo, di certo non ho cattive intenzioni verso di te, figliola. Comprendo bene la difficoltà della tua impresa. Soprattutto considerato che hai a che fare con un seccatore come Giano. Annabeth abbassò lo sguardo. Per chi era qui? Mi stava facendo impazzire. Ci stava provando, confermò Hera. Devi comprendere che gli dèi minori come Giano sono sempre frustrati per il ruolo mediocre che rivestono nell'universo. Temo che alcuni nutrano scarso amore per l'Olimpo e potrebbero lasciarsi sviare al punto d'appoggiare il ritorno di mio padre. Suo padre, ripetei. Oh, giusto. Avevo dimenticato che Crono era anche il padre di Hera, oltre che di Zeus, di Poseidone e di tutti gli dèi più antichi dell'Olimpo. Questo faceva di lui mio nonno, allora. Ma era un pensiero talmente assurdo che lo scacciai subito dalla mente. Dobbiamo tenere d'occhio gli dèi minori, continua Hera. Giano, Ecate, Morfeo. A Dulano l'Olimpo. Tuttavia... Ecco dove è andato Dioniso, ricordai. Doveva fare visita agli dèi minori. Esatto. Hera scrutò i mosaici scoloriti delle divinità dell'Olimpo. Vedete, nei momenti difficili perfino gli dèi possono perdere la fede. Cominciano a riporre fiducia nelle cose sbagliate e meschine. Perdono di vista il quadro generale e diventano egoisti. Ma io sono la dèa del matrimonio, sono abituata alla perseveranza. Bisogna elevarsi al di sopra delle dispute e del caos e continuare a credere. Bisogna tenere sempre bene a mente i propri obiettivi. E quali sono i suoi? Chiese Annabeth. La dèa sorrise. Tenere unita la famiglia, naturalmente. Gli dèi dell'Olimpo. E al momento il modo migliore che ho per farlo è aiutare te. Zeus non mi permette di interferire molto, temo. Ma una volta ogni secolo, o giù di lì, per un'impresa che mi stia molto a cuore, mi concede di esaudire un desiderio. Un desiderio? Prima che tu me lo chieda, lascia che ti dia un consiglio. E questo è gratis. So che stai cercando Dedalo. Il suo labirinto è un mistero per me, quanto lo è per te. Ma se vuoi conoscere il suo destino, io farei una visita a mio figlio Efesto nella sua fucina. Dedalo era un grande inventore e gli andava molto a genio. Efesto non ha mai ammirato tanto un mortale. Se c'è qualcuno che può sapere che fine abbia fatto, quello è lui. Ma come ci arriviamo? Chiese Annabeth. È questo il mio desiderio. Voglio un modo per orientarmi nel labirinto. Hera sembrava delusa. E sia. Desideri qualcosa, tuttavia, che ti è stato già dato. Non capisco. Lo strumento che cerchi è già alla tua portata. Mi guardò. Persi conosce la risposta. Io? Ma non è giusto, protestò Annabeth. Non ci sta dicendo cos'è. Hera scosse la testa. Ottenere qualcosa e avere l'intelligenza di usarla. Sono due cose diverse. Sono certa che tua madre Atena concorderebbe con me. La stanza rimbombò come un tuono lontano. Hera si alzò. Mi chiamano. Zeus sta scalpitando. Rifletti su ciò che ti ho detto, Annabeth. Trova Efesto. Dovrai passare dal ranch, immagino. Ma non ti fermare. E usa tutti i mezzi a tua disposizione. Per quanto comuni possano sembrare. Punto un dito contro le due porte e queste si dissolsero, svelando due corridoi aperti e bui. Un'ultima cosa, Annabeth. Ho posticipato il giorno della tua scelta, ma non l'ho cancellato. Presto, come ha detto Giano, dovrai prendere una decisione. Addio. Fece un gesto con la mano e si trasformò in un fumo candido. Anche il cibo si volatilizzò e il sandwich che Tyson stava addentando si trasformò in vapore nella sua bocca. La fontana si fermò con uno sgocciolio. I mosaici alle pareti tornarono opachi, trascurati e dimessi. La stanza non era più un luogo adatto a un picnic. Annabeth pestò un piede a terra. Che razza di aiuto è stato? Tieni, prendi un sandwich. Esprimi un desiderio. Ops, non posso aiutarti. Puff! Puff, ripetè mestamente Tyson, guardando il piatto vuoto. Beh, sospirò Grover. Ha detto che Percy conosce la risposta. È già qualcosa. Si voltarono tutti a guardarmi. Ma non è vero, ribattei. Non so di che cosa stesse parlando. Annabeth sospirò. E va bene. Allora continuiamo e basta. Da che parte? Chiesi. In realtà, avrei voluto chiedere a cosa si riferisse era, parlando della scelta di Annabeth. Ma poi Grover e Tyson si rigidirono. E come di comune accordo, si alzarono in piedi. A sinistra, dissero. Annabeth aggrottò la fronte. Come fate a esserne sicuri? Perché da destra sta arrivando qualcosa, rispose Grover. Qualcosa di grosso, concordò Tyson. E di svelto. La sinistra mi piace, decisi. E ci tuffammo insieme, nel corridoio buio.